Ancora una volta l'associazione Fevos Santa Toscana risponde alle necessità delle persone più fragili come gli anziani e si mette letteralmente in moto. Così a partire dal prossimo mercoledì 17 marzo inizia questo nuovo servizio di trasporto dedicato a quegli anziani che hanno difficoltà a recarsi a Verona Fiere per il vaccino anti-covid. Debbono essere residenti nel comune di Verona e convocati dall'USL appunto per il vaccino. Il servizio di trasporto, ci ha spiegato Sandra Zangiacomi, presidente di Fevos Verona Santa Toscana, è uno di quelli che la nostra associazione offre sin dalla data di fondazione nel lontano 1987 ed è stato pensato per aiutare la mobilità dei cittadini più fragili, degli anziani, dei malati che non hanno la possibilità di spostarsi da solo o nessuno che li possa accompagnare. Ora, viste le frequenti richieste arrivate nelle scorse settimane dopo il via anche a Verona delle vaccinazioni di massa, la Fevos ha deciso di attivare anche questo servizio specifico. I mezzi e i volontari della Fevos saranno quindi a disposizione inizialmente nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì mattina per poi ampliare eventualmente l'orario in base al numero delle prenotazioni che debbono arrivare al numero telefonico 045 222 3209 dalle 8.30 alle 12.00. Il servizio è gratuito con offerta libera da parte di chi potrà o vorrà contribuire per sostenere l'attività dei volontari. L'appello ai cittadini interessati è quello di telefonare per fissare il trasporto non appena ricevuta la lettera di convocazione per il vaccino da parte delle autorità sanitarie.